Consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione Gusmeroli, con giuramento del sindaco, nella serata di lunedì 25 giugno al Teatro San Carlo di Arona. La sala era abbastanza gremita nonostante la concomitanza con la gara della nazionale italiana agli europei di calcio. Nel corso della seduta è stato eletto anche il nuovo presidente del Consiglio, si tratta di Antonio Furfaro, mentre la commissione di controllo avrà... News 24, la tua nuova tv locale.